Volevano uccidere, erano pronti a vendicare col sangue la morte del loro padre, vittima meno di sette mesi fa di un feroce agguato mafioso ad Andria. È il nuovo capitolo del romanzo criminale federiciano, a scriverlo questa volta due fratelli di 27 e 43 anni, Valerio e Pietro Capogna, quest'ultimo già detenuto nel carcere di Teramo. Si tratta dei figli del 62enne Vito Capogna, noto esponente della malavita locale, assassinato la sera del 25 luglio 2019 in biospedaletto alla periferia di Andria con diversi colpi di pistola. Un agguato al quale i due fratelli si stavano preparando a rispondere con la stessa moneta, quella delle pallottole. Fortunatamente sono arrivati prima i carabinieri che li hanno arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'accusa in concorso è di detenzione illegale di armi da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Nel corso delle indagini i militari hanno accertato come i due stessero progettando la vendetta del genitore, facendo ricorso a pistole ed armi da guerra, tra le quali anche un mitragliatore Kalashnikov. Obiettivi del loro disegno criminoso, alcuni storici esponenti della malavita andriese, probabilmente coinvolti con il sanguinoso agguato costato la vita al padre Vito. L'uomo venne freddato senza pietà con tre colpi di pistola esplosi in mezzo alla gente. All'arrivo dell'ambulanza del 118 per lui non c'era già più nulla da fare. Un'azione in stile mafioso che gli inquirenti collegarono fin da subito con un altro omicidio eccellente avvenuto circa un mese prima nei pressi della villa comunale di Andria, quello di Vito Griner, pregiudicato quarantenne, ucciso a colpi di pistola lo scorso 24 giugno. La vittima era il fratello del noto boss e affiliato alla Sacra Corona Unita, Filippo Griner, attualmente rinchiuso nel carcere di Bancali a Sassari, dove sta scontando una condanna in regime di 41 bis. Nella sparatoria rimase gravemente ferito anche un altro volto noto alle forze dell'ordine, il 39enne Nicola Lovreglio, raggiunto da un proiettile all'addome. I medici riuscirono a salvargli la vita sottoponendola ad un delicato intervento chirurgico. Il timore degli inquirenti già dalle prime indagini era che l'agguato potesse scatenare una pericolosa guerra di mafia e sanguinose vendette tra esponenti della criminalità locale, un pericolo che a quanto pare non è stato ancora scongiurato.